buonasera buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV siamo in collegamento oggi come altre volte con Francesco De Palo lo ringraziamo di essere qui con noi oggi è ventisette luglio eh vedete questa trammissione fra qualche ora e con Francesco De Palo che eh direttore di Mondo Greco e corrispondente dalla Grecia eh osservatorio Balcani e Caucaso ehm parliamo ovviamente di Grecia e ci siamo lasciati l'ultima volta eh al diciamo alla vigilia se così possiamo dire del famoso referendum greco eh che che c'è stata più o meno tre settimane fa all'incirca eh cerchiamo rapidamente di riprendere un pochino mh per fare un aliason senza lasciare un buco questo referendum che insomma era sul sì o no sul piano che l'Europa proponeva hanno vinto i no in ampia maggioranza e dopo è successo insomma qualcosa un certo eh assestamento o meglio se possiamo dire un trauma all'interno del della del governo di Sipras perché Barufakis ha lasciato eh forse anche insomma in qualche modo questo referendum ha dato un un una scossa a questo eh o meglio ha agevolato questo questo distacco eh con Francesco ecco vorremmo riprendere da questo da questo momento per vedere poi le importanti diciamo evoluzioni che ci sono state fino ad oggi con notizie abbastanza importanti che ci sono perché ci sono creditori che sono andati ad Atene per parlare appunto di ulteriori in pratica eh piani di salvataggio memorandum e così via la parola Francesco sì buonasera beh sì per riprendere un po' il filo del caso greco ci eravamo lasciati prima del referendum ma dopo il referendum è accaduto un qualcosa che ha diciamo controbilanciato la piazza stessa il 61 per cento dei cittadini greci ha detto no a nuove misure di austerità no a nuove misure imposte dalla troica ma magicamente come se quel 61 per cento non fosse mai esistito beh esattamente due eh due giorni dopo Sipras ha spuntato un piano che è peggiore di quello proposto da Juncker qualche settimana prima del referendum c'è stato infatti il voto del Parlamento greco al nuovo piano lacrime e sangue che prevede misure draconiane con altre sforbiciate a pensioni indennità a stipendi con altri tagli soprattutto della sanità con altri interventi unilaterali da parte della troica che se volesse domani mattina potrebbe chiedere al governo greco di licenziare i dipendenti pubblici o di abbassare degli aliquiti IRPEF o addirittura delle pensioni beh da quel giorno ad oggi è successo che il governo Sipras è stato terremotato in quanto la notte stessa del referendum il ministro delle finanze Yannis Varoufakis consapevole che la propria linea guida era stata stralciata dal dall'agenda del partito di Sirisa si è dimesso e soprattutto nella settimana successiva Sipras ha dato luogo a un rimpasto di governo allontanando la frangia di dissidenti appartenenti al cenacolo culturale di Iskra il think tank dell'ex ministro dell'ambiente Panagiotis Lafazanis che è in un po' l'anello di collegamento di Atene con Mosca e ha dato vita a questo Sipras 2 che tra l'altro è nato non sotto buonissimi auspici perché tra l'altro c'è un attore televisivo preda insomma bersaglio dei social network greci ci sono una serie di figure che non sono di primissimo piano della politica greca tra l'altro lo scouting di Tsipras per creare la famosa seconda squadra di governo non è stato uno scout felicissimo perché di candidature non ce ne sono state sulla sua scrivania e così oggi abbiamo a poche ore dal ritorno della troica d'Atene un governo sì composto dalla maggioranza di Sirisa ma che ha appena tre voti sopra la soglia minima dei 120 per non cadere per legge un governo che è ancora in alleanza con i destorsi dell'Anelle l'indipendente di destra guidati da Panos Cammenos ma un governo che è politicamente debole da un punto di vista interno perché l'elettorato di Sirisa non nutre più fiducia in Tsipras l'elettorato di centro è attratto da altre proposte e soprattutto un governo debolissimo fuori perché lo stesso Juncker si è meravigliato del fatto che poche settimane prima Tsipras aveva respinto l'ultima proposta di Juncker di un piano di salvataggio con una serie di compiti a casa che il governo greco dovrà fare e oggi Tsipras ne ha accettato un altro che è ben peggiore del precedente quindi la situazione non è delle più floride oggi è appena arrivata la troica e non è detto che le trattative continuino con il sereno perché il barometro segna ancora burrasca. Segna burrasca e diciamo che riguardo al rimpasto come si dice in Italia con l'italico idioma ormai entrato nella politica il rimpasto questo governo ha perso questo di Tsipras ha perso diciamo l'ala un po' più diciamo comunista un po' più estremista quindi in qualche modo questo questo popolo insomma che si sente vessato da queste condizioni in qualche modo vedeva un po' una garanzia anche se magari forse in certi casi populistica però diciamo di persone più disposte a difenderla da quella politica del rigore e queste persone non ci sono più adesso quindi quello che ti volevo chiedere l'identificazione perché un po' questa cosa a me mi ha preoccupato quando poi ho visto i primi scontri quando insomma ci sono stati anche in piazza sintagma c'è il tessuto diciamo politico e sociale ecco l'identificazione in qualche modo con questo governo ancora c'è c'è la credibilità c'è la diciamo la consapevolezza che comunque è un'opportunità perché poi insomma sappiamo che da da questo tipo di situazioni alla balcanizzazione o somalizzazione al disordine sociale in senso ampio e se è facile poi il passaggio. Allora guarda io prometto che comunque qualcosa si è rotto tra Tsipras e il paese perché chi l'aveva votato l'aveva votato con il preciso mandato di far restare la Grecia nell'euro ma a condizioni diverse. Noi dobbiamo ricordare che siamo arrivati a questa elezione dello scorso gennaio dopo tre anni di memorandum dopo tre anni di misure di austerità che hanno peggiorato le condizioni della Grecia. Il rapporto debito PIL della Grecia era al 120 per cento nel 2012 oggi al 185 per cento veleggia verso il 200 per cento. Significa che la medicina della troica non ha chiuso il buco strutturale greco che c'è persiste e continua. Ricordiamo che fino a dicembre del 2014 c'era un mancato gettito fiscale per le casse dello stato greco pari a un miliardo al mese. Cioè la Grecia non riusciva a farsi pagare le tassi dei suoi cittadini per un miliardo di euro al mese. Che è un dramma. Zipras è arrivato con il suo slogan. Lo slogan di Zipras era gli elpida e richiede ovvero la speranza arriva. Il suo programma di governo come hai sottolineato anche tu con un filo di populismo certo ma era fondato su tre principi. Sui principi dei padri fondatori. La solidarietà verso i più deboli. Certo il rispetto delle regole ma con un occhio allo sviluppo che non sia austerità. Beh fino ad oggi Zipras ha in un colpo solo riportato la troica ad Atene. Perché oggi pomeriggio la troica è tornata ad Atene guidata da un capo delegazioni che è ben più algido e duro rispetto a Paul Thomson, il precedente interprete del Fondo Monetario Internazionale. Questa signora che è arrivata oggi che si chiama Delia Voskopulu è rumena ed è durissima dicono gli analisti. Tra l'altro ha curato il caso Cipro con l'Aircat con il prelievo forzoso nei conti ciprioti. Quindi già sappiamo di che cosa stiamo parlando. Al secondo posto l'austerità non è stata abbandonata. Tutt'altro l'austerità è stata raddoppiata perché molti greci con cui ho parlato in questi giorni non hanno letto il nuovo piano lacrime e sangue per avere 86 miliardi. Questi denari entreranno e saranno fatti tornare indietro per il 70%. La Grecia entro il 20 di agosto deve rimborsare altri 3 miliardi e mezzo di euro. Quindi se questi primi denari sono arrivati solo un miliardo e 700 milioni nel corso dell'ultima settimana, quindi dovranno arrivarne altri di prezzi, ma di qui i denari che sono arrivati solo 400 milioni sono rimasti nelle casse dello Stato greco per pagare stipendi, pensioni, per pagare l'elettricità dei comuni. Sono soldi che sono già tornati al Fondo Monetario Internazionale e per pagare i prestiti. Quindi ancora una volta, in questo caso Cipro è stato complice, forse il suo malgrado non lo sappiamo, ma ancora una volta si è scelto di chiudere il caso greco con altri prestiti infiniti, a condizioni ben peggiori dei precedenti, con un tasso di interesse capestro, forse prolungando l'agonia perché non si sa ancora se ci sarà un'altra ristrutturazione del debito, ma non si è affrontato il nudo principale. Tra l'altro il nudo principale sul quale Varoufakis si è dimesso è quello che ha sottolineato nei giorni scorsi Christine Lagarde, il capo del Fondo Monetario Internazionale, che paradossalmente oggi ha le stesse posizioni di Varoufakis, cioè Varoufakis è stato fatto dimettere perché aveva posizioni che oggi sono sottolineate dal Fondo Monetario Internazionale, ovvero il debito greco non è sostenibile, non lo dicono i singoli personaggi, ma lo dicono i numeri, di sola austerità si muore, bisogna provvedere anche allo sviluppo, tre, queste regole europee e questa mancanza di governance europea sta zoppando l'Europa stessa. E allora tornando all'inizio della tua domanda, Tsipras non esce francamente ridimensionato, perché? Perché il prossimo giro, che sia un'elezione anticipata il prossimo 13 settembre, come scrivono i giornali greci, o che si vada all'elezione in autunno, quindi l'8 novembre, beh Tsipras di fatto è stato commissariato e le sue opposizioni, che oggi lo stanno sostenendo in aula, votando al posto dei residenti di Sirisa, non potranno aiutarlo in eterno, ma passeranno all'incasso. E quindi se non sarà un governo tecnico il prossimo, sarà sicuramente un governo dove da un lato ci sarà Sirisa depurata dalle idee più integraliste, dalle idee forse che magari valeva la pena ascoltare, visto che fino ad oggi abbiamo ascoltato solo la campana dell'austerità e quell'austerità non ha risolto il caso greco, quindi valrebbe la pena di ascoltare anche cosa dice l'altro medico alternativo alla troica. Poi è chiaro che si possono ottenere le conclusioni che si devono, però quantomeno sarebbe stato opportuno ascoltare quell'altra campana. Ma dall'altro le opposizioni di conservatori, socialisti e soprattutto i centristi di Potamì, questo nuovo partito sorto attorno alla figura del giornalista televisivo, tuo collega Stavros Teodorakis, che in un solo anno di attività ha ragrandrato il 7% alle scorse elezioni e si dice che voglia essere il nuovo frontman della Grecia, grazie anche ad appoggi con oligarchi ed editori, francamente molto molto sensibili all'argomento, beh sicuramente non faranno da stampella a Tsipras e qualora dovesse esserci un risultato di pareggio, di sconfitta per Tsipras, darebbero loro vita ad un ennesimo governo di l'argentese con la troica, ad un ennesimo governo che sposerebbe l'austerità. Quindi in sei mesi Tsipras ha bruciato quell'entusiasmo che si era creato nella piazza europea, ma non tanto per il sostegno di altri partner potenziali, come per esempio Podemos in Spagna, ricordiamo che in Spagna si voterà proprio il prossimo autunno, quindi si dice in concomitanza con la Grecia, ma per cercare di capire come migliorare l'Europa. Fare delle critiche all'Europa, alla governance europea, sul caso greco non significa essere salviniani o essere iper anti-europeisti, tant'è che Farufakis sta mettendo su un movimento, proprio un'associazione, un movimento trasversale con la Fonteni, con lo stesso con la Bright, con altri personaggi, con altri economisti, proprio per ristrutturare l'Europa, non per abbatterla. Cioè quindi qui non c'è una voglia di anti-Euro, c'è una voglia di migliorare questa Europa che così com'è ha prodotto un caso, quello greco, che incide per appena il 2% del Pile europeo, ma nonostante incida per pochissimo, nonostante sia abbia il Pile di una provincia del trivenito italiano, ha messo in stallo l'Europa intera e ha prodotto, udite udite, l'euro tassa che Schäuble vuol far pagare anche noi italiani. Perfetto, arriveremo a parlare dei dei movimenti e delle manovre di Farufakis, però prima voglio aprire lo spazio delle domandine da avvocaticchio del diavolo, che sono queste, sono due domandine secche. Primo, visto che insomma gli eventi sono anche conseguenza di questo eh referendum con cui abbiamo aperto. Allora, considerate eh le il contesto emergenziale, drammatico, forse parzialmente compensato dal fatto che eh ha una popolazione abbastanza ridotta rispetto ad altri paesi, la Grecia. Eh quindi considerate un po' tutte le circostanze. Eh questo eh il popolo greco con il quesito mh si è pronunciato in modo sufficientemente consapevole, era informato di ciò a cui avrebbe dovuto dire sì e ciò a cui avrebbe dovuto dire no. E poi l'altra domanda che è molto diversa riguarda l'FMI eh effettivamente ci sta appunto questa diciamo di agnosi in pratica a fine che questo debito è insostenibile perché ormai sta oltre duecento per cento del più o meno insomma del del PIL interno però qualcuno dice che ormai solo lo dicono perché sono stati eh in qualche modo pagati non sono più quasi il loro il credito che avevano appunto che la Grecia aveva nei suoi confronti dell'FMI è molto ridotto quindi hanno un po' non più grande interesse a continuare il rigore e quindi cominciano a dire che insomma magari il ripianamento ci vorrebbe eccetera e queste sono le due domandine dell'angolino delle domandine del dell'avvocato di diavolo. Allora caro diavolo partiamo da dal referendum allora eh è pur vero che non c'è stata sufficiente informazione nel senso che i media greci non hanno brillato per completezza delle informazioni e per eh diciamo dare spazio al ventaglio di opinioni eh molte molte persone molte persone greche molti soprattutto studenti hanno avuto occasione di capire esattamente che cosa c'era dietro il referendum leggendo la stampa straniera così hanno potuto farsi un diciamo un'infarinatura di eh di di conoscenza su che cos'era il nuovo piano lacrime indipendente perché l'informazione è in mano a cinque oligarchi i quali contemporaneamente sono editori proprietari di squadre di calcio partecipano alle privatizzazioni fanno i lavori pubblici per lo Stato hanno una serie di conflitti di interesse abbastanza macroscopici che forse in altri paesi europei non ci sono nonostante una legge sul binthrads che è stata ampiamente bypassata in Grecia intestando le società ai figli degli oligarchi quindi i grandi gruppi di potere che gestiscono i grandi giornali non avevano nessuna intenzione a che vincesse il no al referendum e quindi parlando con la gente comune parlando con i con i greci al mercato al bar nelle caffettere nei ristoranti passava il messaggio che quel no al referendum sarebbe stato automaticamente un voucher per tornare al Veracma quando alcuni greci hanno capito la questione si sono un attimo straniti perché hanno capito come i canali televisivi e i giornali non abbiano fatto sufficiente informazione fatto sta che comunque il 61 per cento dei cittadini greci ha detto no al piano quindi in questo senso non si capisce la schizofrenia politica e partitica del governo perché fermo restando che la partecipazione alla famiglia europea impone la rinuncia ad un certo pezzetto di sovranità per acquisirne uno più globale più collettivo beh non si capisce come si possa ignorare così palesemente così in maniera così macroscopiche direi anche volgare la pronuncia palese di un popolo del 61 per cento di chi si è espresso a questo punto non andiamo più a votare bruciamo le schede elettorali referendum e accomodiamoci sulla nostra sedia in attesa che le decisioni vengano prese da altri ma se dobbiamo ancora salvare le apparenze cioè se dobbiamo assistere alla vulgata che il nostro regime è democratico quindi i cittadini votano e partecipano non si capisce come un voto popolare sia stato mortificato due giorni dopo da una decisione assurda quindi il cortocircuito di cipras è essenzialmente democratico è essenzialmente partitito sirisa è un partito che è esploso al di là della diatribe della scissione tra l'ala più radicale l'ala più diciamo europeista anche se non è propriamente così al di là di questo è la mortificazione di una pronuncia popolare che deve farci preoccupare significa che nel nostro continente il popolo è relegato a scomoda cornice e non mi si venga a dire che il popolo non può prendere decisioni che devono essere prese da altre persone perché se queste altre persone sono i ministri dell'economia del dell'europa che hanno prodotto il debito greco e udite udite hanno prodotto il debito italiano che di 2500 miliardi di euro a fronte di quello greco di 280 beh non mi si venga a dire che questi illustri ministri questi illustri professori sono tanto meglio del del normale cittadino che ha espresso il suo voto a rettarendo perché francamente non è così venendo alla seconda domanda sì può essere anche che il fondo monetario internazionale oggi abbia posizioni più contro l'austerità rispetto a prima perché è già passato all'incasso della grecia ma a questo punto io gioco la carta della geopolitica perché il fondo monetario internazionale sta modificando una posizione che peraltro aveva esplicitamente palesato nel dicembre del 2012 a crisi appena iniziata voglio ricordare che uno dei funzionari più in vista dell'fmi Olivier Blanchard in un report ufficiale apparso sulla stampa straniera disse che il debito greco già all'epoca non era sostenibile e che i numeri del memorandum imposti alla grecia erano numeri sbagliati quindi oggi dopo tre anni se ne accorge anche il vertice del fondo monetario internazionale beh la risposta alla tua domanda è alla geopolitica perché perché la partita non è greca la partita non è giocata ad atene ma è giocata a washington e a mosca il fondo monetario internazionale ha capito che la spinta propulsiva di bruxelles verso una iper austerità che non sana le deficienze strutturali dell'europa ma peggiora dei conti e sta costruendo un continente in cui un paese solo ha uno sviluppo e tutti gli altri le briciole è esplicitamente un meccanismo che non funziona che non crea un'europa concorrente dei brux e degli stati uniti ma crea un'europa con un unico paese al comando con le altre economie devastate dall'austerity il dilemma dell'austerity l'abbiamo detto più volte come quello della dieta io posso fare un regime di dieta per due mesi per tre mesi ma se lo faccio per un anno muoio di denutrizione è evidente lo dicono tutti i medici allora un paese che risparmia che fa spending review non una tanto ma che lo fa tutti i mesi è un paese che non produce più nulla nell'antichità le civiltà come ci sono sviluppate perché si posizionavano sui fiumi sui monti o sulle città marinare perché producevano commercio producevano il giro di soldi se si interrompe il flusso di monete in una città quella città muore oggi la grecia è un far west ci sono città dove non ci sono riprese industriali c'è una città dove non si fa pill una città che non produce nulla ma che è affetta soltanto da tagli verticali è una città che sarà depopolata nell'immediato futuro da dove partiranno tutti se ne andranno i cittadini più giovani gli studenti andranno a studiare altrove i giovani emigreranno quindi un paese che assume come strategia di lungo respiro la spending review imposta per sempre è un paese che non ha futuro allora questa cosa è stata compresa per fortuna dal fondo monetario internazionale ma non ancora della germania e allora lo scontro tutto intestino tra l'amministrazione obama e la cancelleria merke che ha visto nel caso snowden quindi anche delle intercettazioni dei servizi il punto più importante nell'ultimo anno trascorso sta passando anche per la crisi greca e quindi l'integralismo di christine lagarde numero uno del fondo monetario internazionale si sta lievemente appassendo per andare su posizioni più ragionevoli perché parliamoci chiaro se io ho un debito nei confronti di una persona mi rendo conto che questa persona questo debito non lo salda beh piuttosto che perdere tutto tutto quel denaro punto almeno ad averne il 20 o il 30 per cento quello che schoive non vuol fare perché schoive vuole andare dritto verso un grexit anche a tempo minacciando anche le tue dimissioni allora lo scontro non è greco è uno scontro oceanico che si sta consumando tra washington tra mosca ma con al centro berlino che anziché fare dago della bilancia sta facendo da terzo concorrente in questa guerra quindi anziché depotenziare le testate nucleari forse schoive ne sta aggiungendo qualcuna di troppo eh sì insomma è un quadro abbastanza inquietante e nell'ambito di questo eh diciamo scenario così così possiamo dire i rappresentanti dei creditori della grecia eh quindi l'unione europea fondo monetario internazionale sono ad Atene per appunto eh iniziare trattative parlare vedere un po' per il futuro per ulteriori salvataggi soldi che verranno dati alle banche nel frattempo la borsa è chiusa gli scambi se non sbaglio sono bloccati e eh Varoufakis dal punto adesso dal di fuori del governo si manovra e eh diciamo far parlare di sé per un fuori onda o qualcosa del genere con cui do appunto a Francesco l'onore di dire cosa rivela questo o abbia rivelato insomma questa specie di indiscrezione che piano aveva Varoufakis eh sì eh Varoufakis ha eh diciamo riportato sulla stampa internazionale un po' eh quelli che sono stati gli ultimi sei mesi di sua partecipazione nel governo Tsipras ma soprattutto si è tolto qualche sassolino dalla scarpa perché ha detto chiaramente che insomma il piano B gli era stato commissionato direttamente dal Tsipras. Il piano B che cosa prevedeva? eh il piano B prevedeva eh prevedeva diciamo la creazione di un regime eh parallelo a quello greco eh di modo che si potesse creare una valuta parallela con una serie di passaggi paralleli di denaro eh per esempio in un passaggio che adesso ho ritrovato eh Tsipras ehm Varoufakis dice abbiamo una moneta che non può essere sottovalutata contro l'euro abbiamo l'euro ma Schäuble è determinato a raggiungere il Brexit quindi di fronte al muro di Berlino ecco che Varoufakis si inventa questo piano B ovvero eh la Grecia come ogni altro paese ha un sito del servizio fiscale no come l'agenzia di adentrata in Italia come in Gran Bretagna dove i cittadini possono accedere eh utilizzando le proprie credenziali e pagare quindi le proprie i propri conti viva le imposte varie. Varoufakis aveva creato un pool di quattro tecnici eh quattro cinque tecnici non di più per mantenere riservatezza sull'argomento eh progettando di creare conti segreti collegati fra loro tramite questa valuta che si chiama TIN un po' come quella dei Bitcoin diciamo di cui abbiamo parlato in questi ultimi mesi con un secondo sistema di sicurezza cablato che non che non fosse noto praticamente a nessuno quindi un secondo sistema di pagamenti di banche di conti correnti all'interno della Grecia eh tramite il quale il governo premendo un semplice pulsante eh avrebbe consentito di distribuire ciascun cittadino greco un certo quantitativo di TIN al posto degli euro eh ad esempio diciamo diciamo l'esempio più frequente era quello che lo stato doveva diciamo pagare i farmacisti eh una certa quantitativa di quantità di denaro per conto del sistema sanitario nazionale ricordiamo che i farmacisti greci sono stati vessati dal sistema sanitario nazionale perché avevano maturato crediti milionari perché lo stato non pagava più i loro farmaci quindi molti farmacisti hanno dovuto chiudere molti farmacisti tra cui uno in particolare sono anche chiusi la vita eh hanno hanno sono tolti la vita scusate eh quindi l'idea di Varoufakis era creare un trasferimento digitale attraverso questo conto di TIN alle società in apnea eh creando uno strumento da utilizzare come un meccanismo parallelo in caso di uscita dall'euro e ovviamente per andare eh diciamo a combattere l'austerità della banca centrale europea. Queste dichiarazioni che sono state fatte da Varoufakis e che lui oggi ha ritenuto di dover eh divulgare attraverso una serie di portali di siti stranieri eh sono state un po' il sassorino dalla scarpa che Varoufakis si è tolto perché eh se fino a qualche tempo fa magari nessuno avrebbe ipotizzato una rottura anche drammatica da un punto di vista umano tra Tsipras e Varoufakis speri che ricordiamo che la politica di Tsipras è quella che Varoufakis ha plasmato dal 2008 ad oggi non solo nel suo blog ma nei suoi eh pamphlet importanti come eh il ritratto del Minotauro insomma quello scritto con l'economista Galbraith che è figlio del del noto Galbraith economista di riferimento di John Kennedy alla Casa Bianca insomma i riferimenti erano erano questi ma oggi se lui se voglio dire se se Varoufakis ha inteso di fare questa mossa c'è anche un motivo d'immagine perché perché in questo momento lui è il capo espiatorio di una politica che nessuno può giudicare se sarebbe stata o meno fattibile fatto sta che oggi la Grecia si ritrova con una contropolitica si ritrova con una politica economica che è contraria a quella per cui il governo Tsipras è stato eletto quindi torniamo a un problema di legittimazione popolare non c'è una strada alternativa all'austelità non c'è una strada alternativa che si chiama sviluppo perché di questi 86 miliardi che arriveranno in Grecia domani mattina non uno di quegli 86 miliardi va alla costruzione di una nuova fabbrica né nessuno ha pensato a creare un regime fiscalmente sexy che permetta alle aziende straniere di andare a delocalizzare in Grecia così come abbiamo fatto in Italia in Croazia in Serbia in Montenegro così come hanno fatto i nostri imprenditori in Cina mentre abbiamo qui a due passi da causa 80 milianauti che è un paese che ha tutte le risorse del Mediterraneo che ha l'agricoltura non sfruttata che è il niene migliore d'Europa dati del 2014 che ha una serie di ettari e ettari di territorio non sfruttati si potrebbero far pascolare le mucche d'Europa per produrre quello stesso latte che in Europa ci viene avversato ci sono tutte le permesse per fare sviluppo ma di questi denari che vanno in Grecia non un miliardo viene utilizzato per creare nuove fabbriche nuovi posti di lavoro quindi la follia più totale si legge qui e si legge la voce privatizzazione perché perché le privatizzazioni del porto del Pireo e alla voce gas avrebbero potuto dare 20 mila nuovi posti di lavoro con il nuovo gazdotto Tarkistrim appena siglato dei ministri peraltro di missionario Fasanis ma in queste notizie adesso non si ha più contezza perché il nuovo governo dovrà ratificare oppure strappare qui quegli accordi non si sa se la troica vorrà dire la sua anche alla voce privatizzazioni perché non vede di buon occhio l'ingresso di Gazprom nel Mediterraneo quindi in un mese è cambiata non la politica greca in un mese è cambiata la politica europea quindi oggi non sappiamo se ci sono nuove strade di sviluppo oggi non sappiamo se percorribile un'alternativa all'austerità quindi il dramma in questa Grecia che non conta nulla però sta bloccando le cancellerie di mezzo mondo in questa Grecia sta accadendo qualcosa di grave perché è stato depauperato il voto popolare è stato emarginato l'elettorato quello che è il principe dei governi e c'è ancora una volta la troica che ripeto può essere uno strumento temporaneo per rimettere a posto i conti di un paese in Grecia invece la troica ha occupato i ministeri dal 2012 ad oggi oggi vi sta tornando con premesse drammatiche perché qualche giorno fa in Grecia ci sono ricominciati gli scontri degli anarchici dei black bloc con cui cipra si aveva fino ad oggi mediato ma che oggi sono resi conto che di quelle politiche sociali non resta neanche l'ombra quindi potremo assistere ad altri ad altri scontri e appunto per questo riferisce la cronaca greca delle ultime ore che i blindati della polizia stazionano dietro l'hotel dove sono proprio allocati i membri della troica quindi il clima è tutt'altro che sereno. Sì il problema di sicurezza è abbastanza sentito e presente per queste riunioni. In chiusura volevo farti due domande. Queste rivelazioni di Varoufakis in qualche modo possono essere un sassolino abbastanza grande anche per il fatto che si potrebbe in qualche modo escludere che Tsipras non fosse a conoscenza di questo tipo di piano o di questi insomma risvolti o almeno insomma a essere qualche sospetto e quindi in qualche modo è andata la trattativa Tsipras sapendo che c'era qualcosa che insomma era completamente diciamo antitetico e incompatibile con quella trattativa e poi volevo chiederti se questo scenario di moneta parallela, ritorno alla track ma adesso chiamiamolo come di pare, insomma questo scenario di parallelismo e quindi un'uscita in pratica o una parziale uscita dal sistema dell'euro è una diciamo uno scenario che non è prevedibile, cioè che si può continuare, è un pericolo tra virgolette che è ancora eminente oppure diciamo accantonato da questi interventi ultimi post referendum dell'Europa? Allora partiamo col dire che Varoufakis nelle sue rivelazioni dice chiaramente che questo piano B era stato commissionato da Tsipras prima ancora che Tsipras diventasse premier e prima ancora che ci fosse la squadra di governo. Tutti sanno che Varoufakis è stato consulente di Soros, è stato anche per un periodo consulente del PASOC, il partito socialista greco, prima del 2008-2009, nel 2009 scocca la scintilla con Tsipras, si incontrano, diventano amici, diventano partner, hanno questa affinità politico-sociale-economica, quindi il programma, tutto ciò che è stato creato di Economico in Sirisa dal 2009 ad oggi porta la marca, porta il timbro di Varoufakis, quindi la politica economica di Tsipras, il famoso programma di Salonico è stato ispirato da Varoufakis, quindi se Varoufakis ha detto che aveva avuto l'incarico per fare questa cosa, è chiaro che questo incarico gli era stato consegnato da Tsipras in persona. Il problema qual è? Che Varoufakis si è sentito tradito, perché al di là, io non sto parlando del merito delle proposte su cui gli economisti potranno ovviamente riferire meglio di me, ma se la tattica era quella di andare a rompere il tavolo dell'austerità e Tsipras aveva usato come piede di porco lo stesso su Varoufakis, beh la marcia indietro del referendum è una marcia indietro che non è incomprensibile, sarebbe stata comprensibile se avessero vinto i sì al referendum, invece al referendum vanno vinto i no, quindi il premier greco semplicemente se ne è infischiato di quello che pensava il popolo e pressato quanto si vuole dai poteri forti, dall'istituzione europea e da quant'altro ha deciso per un cambio di lotta immediato. Varoufakis però non è rimasto con le mani in mano, perché la sua rete è fatta da personaggi del calibro di Oscar Lafontaine, che catarizza i nemici della CDU, lo stesso Colbright, Krugman, Joseph Stiglitz, altro premio nobile avvestato qualche giorno fa nella sede del governo greco, si dice che questa possa essere infatti la potenziale squadra tra posizione a riuscire del sole e altre meno evidenti, che proprio l'ex ministro di Atene vorrebbe mettere in campo, perché si dice che voglia fare, creare un movimento europeo, un movimento transnazionale, trasversale, che possa diventare partito politico ancora non si sa, ma tornare a quella politica che lo ha espunso tanto a Bruxelles quanto in Grecia. Allora, le posizioni di Varoufakis, su cui, ripeto, nel merito possiamo anche evitare di entrare, non sono state però poste in considerazione rispetto al voto del referendum. Il terremoto in Sirisa è questo, ovviamente Schauber permettendo, perché tutti sappiamo che il ministro delle finanze tedesco non ha nessuna intenzione di recedere dalle proprie posizioni. Nello stile di Varoufakis sappiamo tutti che spicca questa, come possiamo chiamarla, questa ambiguità creativa, prima dice qualcosa, poi lo confute, ha imparato bene il mestiere della comunicazione e se possiamo dire ha imparato bene il mestiere della comunicazione politica italiana. Però proprio Varoufakis, l'altro giorno dall'economia del Spiegel, prima ha escluso la convention, lanci di partiti in stile a stare strisce, ma poi ha ammesso che l'idea di un movimento c'è e si muove. Come dire, più Europa, questa Europa non ci piace, quindi no all'anti-europeismo di Le Pen, di Salvini, di Orbán, però sia un'Europa diversa che passi da quella solidarietà di cui non si attraccia. Voglio ricordare che le parole di Varoufakis, che tra l'altro sono contenute in un pamphlet che uscirà entro la fine di quest'anno, che dovrebbe chiamarsi, se non erro, perché le crisi le pagano sempre i poveri, queste parole sono state replicate nell'ultimo mese da una persona sola. Questa persona si chiama Papa Francesco, che sull'aereo di ritorno dal recente viaggio in Venezuela ha detto una frase che a migliaia di chilometri di distanza, chi è riuscito ha unito come un filo rouge alle parole di Varoufakis. Il Papa ha detto che non è giusto quel modello di società dove le crisi sono solo sulle spalle dei poveri. Era la notte in cui il Parlamento di Atene votava il nuovo memorandum lacrime e sangue, era la notte in cui Varoufakis ha staccato la spina, non a se stesso, ma ha staccato la spina a una certa idea, diversa, condivisibile o no, di Europa. E allora vedere oggi che quel movimento transnazionale potrebbe comunque contare su una serie di personalità di spicco dell'economia mondiale, due premi Nobel, attenzione, non ci sono gli attori del governo Tsipras, qui ci sono due premi Nobel, ci sono personaggi della Linke tedesca, ci sono persone di spessore che pur definendosi assolutamente europei, anelano ad un'Europa diversa, perché noi possiamo parlarne fino a dopodomani, il problema non è greco dell'Egeo, il problema è europeo, quale Europa vogliamo costruire. I padri fondatori, al loro tempo, i vari spinelli, Eidenhauer, Schumann e lo stesso De Gasperi, costruirono una famiglia europea fondata sulle regole, ma solo dall'età, e sullo sviluppo. Qui la classe dirigente non produce idee alla voce PIL, ma taglia solo le tasse, aumenta solo le tasse e taglia le spese. Allora, una politica che sia italiana o europea, che non ha la lungimiranza di costruire nuove fabbriche, perché la politica deve produrre lavoro, il lavoro si produce con nuove fabbriche, con nuove idee. Se la politica declina la produzione di strategie e di lavoro e aumenta le tasse, e adesso abbiamo l'eurotassa proposta da Schäuble e attuata da Monti, e c'è il taglio alla sanità, c'è il taglio alla spesa pubblica, e c'è il taglio all'uelfar, che in Grecia è stato depotenziato dall'80%, beh, io a questo punto non parlerei più di politica costruenza. Io parlerai di una classe dirigente che è seduta in prima classe, aspettando comodamente alla consumazione, ma di idee, di produzione, di strategie, non ne vedo neanche una. Un po' quello che sta accadendo in Libia, perché Libia e Grecia sono accomunate dalla stessa mancanza di lungimiranza da parte della classe dirigente, con l'Italia che ancora una volta, anziché essere protagonista, perché lì un molo messo in quel grande lago salato del Mediterraneo, sceglie di fare ancora una volta la comparsa. Perfetto. La domanda alla parte finale sull'uscita dal sistema dell'euro. È possibile, secondo che ancora, o quest'intervento d'Europa l'ha scongiurato? È chiaro che il caso greco è stato utilizzato da Schäuble, non tanto punire uno, umiliare uno per fare aprire gli occhi a tutti. Gli altri paesi europei, tra cui le cosiddette Colombe, Italia e Francia, erano definite Colombe soltanto perché sono nelle stesse condizioni della Grecia. Miliardo più, miliardo meno. Io non posso immaginare un François Hollande altamente solidare con Cyprus perché volevano emulare il padre dell'Europa Spinelli, ma perché si è reso conto che anche la situazione economica francese avrebbe potuto prendere la direzione greca. Non parliamo poi dell'Italia, il cui debito pubblico è sotto gli occhi di tutti, ma che tutti sottovalutano come se fosse carta straccia. Quindi dopo l'esperimento Varoufakis è andato male. Sicuramente in Europa non c'è spazio per un'alternativa, che possa essere corretta o no, non spetta a me a dirlo, ma è un dato di fatto che oggi questo Euro, così com'è strutturato, così com'è pensato, pesa sulle famiglie, pesa sulle imprese, non dà sviluppo occupazionale, non produce sbocchi. Allora, io sono europeista, lo siamo tutti, io sono in Europa unita, dall'Atlantico agli Urali, sono in Europa finalmente al tavolo del G3 con Cina e Stati Uniti. Purtroppo sappiamo tutti che i vertici si tengono soltanto con la Merkel e l'Ollanda, come quello che ha fatto a Mosca senza invitare il commissario europeo agli esteri, la nostra Mogherini, che ancora una volta, forse non si sa per quali ragioni, ma se non viene invitato, insomma, come ha detto il professor Lutwak qualche settimana fa, lui si sarebbe dimesso al posto della Mogherini, però ognuno ovviamente fa quello che ritiene. Mi rendo conto che questa Europa con quest'Euro non si siede al tavolo dei grandi, allora modifichiamo l'Euro, modifichiamolo con i trattati, miglioriamolo e facciamo in modo che l'Europa si sieda finalmente al tavolo dei paesi che è contro e non sommisca le decisioni che arrivano dall'alto. Perfetto, con queste parole di auspicio ringraziamo Francesco De Palo, vi facciamo in bocca al lupo a una presentazione del suo libro fra qualche ora, quindi in bocca al lupo, libro che ovviamente sul libro di cui abbiamo presentato, già c'è la registrazione e quindi ci diamo appuntamento alle prossime prossime aggiornamenti per questa parte di Europa che speriamo continui a restare a far parte dell'Europa insomma. Grazie ancora Francesco De Palo e a scattare il genio di una doppicella.